La scuola la mettiamo qui. E la nostra casetta? E la nostra casetta qui. E vicino a casa? Il signor Giuseppe. Despar è il tuo buon vicino. Alla Despar 600.000 famiglie risparmiano ogni anno 18 miliardi con le nostre offerte speciali. Trovano la certezza di qualità e convenienza in 400 prodotti a marchio Despar. Trovano un assortimento completo su misura della loro spesa. La gente si trova bene alla Despar. Despar vuole essere il migliore vicino a te.